Ragazzi foto di gruppo era un video non era una foto Lo sai da quant'è che lo scopriamo e così nelle lunghe relazioni dopo un po' la passione Non voglio ballare c'è solo mezza luna Amore mio No ma che sorpresa ciao Quanto è restato? I bambini restano tre giorni Perché tu dove vai? E devo raccontare una storia Malattia alla mamma E poi non mi dite niente degli zii come va? Uno è figo proprio Ma questo l'altro Stai bene con la fascia come Grazie La tua fortuna corrisce tutta Tutte le malattie Per i romani la fortuna in realtà era il caso Buono o cattivo dipende solo da noi Come fai a tenere sempre con te qualcuno A cui vuoi molto bene Ti riguarda la fisso Ti scende fino al cuore Quella persona Sarà con te per sempre